Il Centro Estetica e Benessere ti aspetta in via Vittorio Veneto numero 186 a Cava dei Tirreni per proporti pacchetti e promozioni adatti ad ogni tua esigenza. Torna la quiete a Palazzo di Città dopo la tempesta delle scorse ore all'indomani della rimodulazione delle deleghe attuata dal sindaco Servalli. Infatti nel tardo pomeriggio di ieri il primo cittadino ha incontrato l'assessore Enrico Bastolla il quale si era preso una pausa di riflessione in attesa di un chiarimento politico proprio per fare il punto della situazione sulla nuova delega alle politiche sociali, formazioni, politiche dell'accoglienza e dell'inclusione. La dialettica è sempre positiva, abbiamo discusso anche animatamente, però abbiamo raggiunto un'intesa. Io due anni fa, subito dopo aver fatto riprimare lo sostenuto dell'amministrazione Servalli, lo sostenuto del sindaco Servalli e quindi nel momento in cui il sindaco mi ha chiamato per ricoprire un altro ruolo, un nuovo ruolo, un nuovo incarico. È naturale, penso che sia umano, riferterci un attimino e dare poi la risposta in senso positivo. Avevo sicuramente avviato un buon lavoro al commercio, avviato un buon lavoro ai lavori pubblici. Queste scelte così, che sono improvvise, mi hanno lasciato un attimino destabilizzato, ma tutto posto, tutto chiarito, andiamo spediti nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo rivissati con l'amministrazione Servalli. L'assessore Bastolla, in accordo con il sindaco, continuerà a lavorare in sinergia con il mio assessore ai lavori pubblici, in un suo senatore, per portare a termine gli impegni assunti per il completamento del contratto di quartiere di Pregiato, la riapertura delle rampe del sottovia veicolare e la riqualificazione urbana dei pianesi. Sono le opere che da qui a qualche giorno, a qualche breve periodo, chiudiamo, quindi d'intesa un po' con tutti quanti, anche con il nuovo assessore e il nostro senatore, abbiamo raggiunto questa operatività, sul piano effettivamente operativo, di seguire il contratto di quartiere che avevo già avviato determinate procedure, determinati contatti con la regione e con Roma, Piazza Basse che è finita e il sottovia che stiamo per inaugurare. Ripeto, questo solo per un fatto operativo, perché sono delle vittorie dell'amministrazione intera, quindi di tutti gli assessori, del sindaco in primis, di tutti gli assessori, di tutti i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione, perché le opere sono della città e quindi della città e dei caresi. Se da un lato l'opposizione ha accusato il sindaco di aver nominato in un settore importante della vita amministrativa cittadina, quali le politiche sociali, dell'ennesimo assessore part-time, non si è fatta attendere la replica di Enrico Bastolla. Immaginavo, immaginavo che ci stava anche questa cosa, l'hanno detto quando stava al commercio, l'hanno detto quando stava ai lavori pubblici, immaginavo che lo dicevano anche alle politiche sociali, ma sono abituato, io approfitto per dire questa cosa, parlano uno, parlano gli obiettivi raggiunti e i risultati. Aspettiamo un attimo, adesso ancora mi devo insediare, lunedì mi insediato nel nuovo incarico delle politiche sociali. Nel frattempo, sull'amministrazione Selvalli, arriva il fuoco incrociato da parte delle varie forze politiche di opposizione. L'ennesimo rimpasto, in poco meno di due anni dalle elezioni, si legge in una nota a firma del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Fabio Siani, palesa le difficoltà politiche che attanagliano un'amministrazione fallimentare sotto tutti i punti di vista, amministrativi e politici, come dimostra l'ultimo avvicendamento in giunta. I responsabili per Cava, invece, puntano l'indice nei confronti del nuovo assessore all'attività produttiva, Luisa Iannone, per la sua stretta vicinanza politica al governatore Vincenzo De Luca.